mi scusi buon uomo mi sa dire l'ora per favore è 5 e 35 ma è sicuro è 36 grazie ha mangiato il ciuchino eh? e no? senta mi sa dire che ora sono adesso? androrta le sette e un quarto ma sono le sette e un quarto a spaccare incredibile ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino scusi no io le arzo sotto c'è il campanile vedi? vedi sette e un quarto